Mister Raffaele, probabilmente quando meno se l'aspettava è arrivato un gol in una partita combattuta davvero fino al 94esimo. Sì, sì, una partita molto equilibrata, molto difficile, dove abbiamo trovato un avversario di spessore, tecnicamente molto forte, infatti avevamo anche preparato le loro ripartenze, perché è gente che ti fa male. Siamo stati benissimi in partita, secondo me, negli ultimi 20 minuti e poi abbiamo trovato questo quizo che ci regala questi due punti. Andiamo avanti, io credo che il Termo abbia fatto una partita di sacrificio, ordinata, dove ha fatto di tutto per non farci giocare. La bravura nostra è stata quella di non prestare fianco ad errori con eventuali ripartenze, perché sapevamo che ci avrebbero fatto male. Se l'aspettava uno schieramento così, un 4-3 dall'inizio, peraltro con due giocatori adattati in quella zona di campo? Diciamo che hanno fatto un 4-5-1 molto, molto abbottonato, dove poi con Mungo, con Cianci, con questi inserimenti cercavano di eventuali transizioni, di portarle a favore loro. Poi nel secondo tempo con Martignaco avevano cercato un po' più di qualità. Noi abbiamo avuto la pazienza, siamo stati bravi e fortunati questa volta a trovare il guizzo finale che ci regala questi tre punti. Come ci si sente al primo posto in classifica? Io ritengo che è una bella sensazione, sicuramente, è un premio al nostro lavoro, però diciamo che siamo all'inizio di un percorso lunghissimo. È stata la nona tappa di 38 che ce ne saranno, quindi in questo momento è importante fare i punti, avere prove di maturità come questa, perché, ripeto, abbiamo giocato contro un avversario, secondo me rientrerà tranquillamente nelle posizioni nobili della classifica. Quindi quello che oggi sembra un risultato contro il Teramo a 9 punti invece è un risultato da parte nostra di Spessore. L'ultimissima, quei cinque cambi in sei minuti, che cosa non le era piaciuto fino a quel momento? No, 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 abbiamo, come il Teramo, come altre squadre, noi abbiamo fatto anche la Coppa, abbiamo fatto sette partite in queste due settimane e col caldo che oggi era veramente strano per potenza, ecco, eravamo un po' in difficoltà su alcune situazioni, ho cercato di rimettere freschezza, anche perché mercoledì avevo avuto risposte importantissime da chi era stato in campo nella partita di Coppa, quindi solo questo, chi ha giocato ha fatto bene e chi è entrato sicuramente ha fatto altrettanto bene, quindi abbiamo una rosa importante, ho rischiato un'eventuale situazione, ma in quel momento ritenevo che cambiare determinate situazioni ci avrebbe dato più spinta, più intensità e avremmo ripreso un po' di più il pallino della manovra, perché erano 5-10 minuti che non riuscivamo più a prendere il Teramo altissimo come abbiamo fatto il primo tempo. Complimenti. Grazie, grazie a tutti.